siamo con elisa gioppi autrice di firenze suona sulla scena musicale fiorentina del libro sul club 27 e anche terni le vite dei grandi compositori adesso in libreria con un nuovo libro love and music le storie d'amore più belle della musica c'era una canzone di nada che si chiamava amore disperato sono un po amori disperati quelli che racconti te sì diciamo la maggior parte si sono amori diciamo che spesso hanno un'evoluzione piuttosto triste però amori anche ispirati e che ispirano anche infatti hanno ispirato tanti tanti brani che insomma sono rimasti immortali insomma per gli amanti della musica in generale tra l'altro appunto nel libro non parlo soltanto di storie d'amore rock ma anche di storie d'amore di grandi jazzisti quindi insomma diciamo ho un po' cercato di selezionare quelle che secondo me sono le storie d'amore più belle più più intense insomma più interessanti al di là della parabola che poi hanno avuto e se si parla di amore in musica non può non venire in mente johnny cash john carter oppure la forse la più famosa john lennon e yoko ono che cosa unisce queste coppie che invece ce l'hanno fatto queste coppie di successo diciamo diciamo che le due che hai appena menzionato sono stati un po dei miracoli nella storia della musica perché al grande amore diciamo quindi alla relazione umana che si è instaurata fra questi personaggi entrambi artisti si è affiancata anche un sodalizio artistico che è stato straordinariamente fecondo quindi nel caso di johnny cash nel nel caso di john lennon entrambi hanno avuto diciamo questo grande arricchimento dato dalle loro compagne di john carter e di yoko ono che sono state incredibilmente importanti per la loro evoluzione musicale artistica ma anche come personaggi politici mi viene da pensare a john lennon che che appunto diciamo ha ricavato molto dalla vicinanza a yoko ono che comunque era una grandissima artista è un personaggio anche di grande spessore culturale quindi anche diciamo la rilevanza anche politica e sociale che ha rivestito john lennon in parte è anche grazie insomma alla sua al rapporto che straordinario con la sua compagna insomma il suo grande amore quindi yoko ono anche imagine una canzone come imagine non sarebbe mai esistita senza yoko ono e un'altra coppia famosissima è quella di fatti smith e robert mappeltorpe anche qui una coppia sui generis perché è nata come storia d'amore e poi però diventata qualcos'altro di più forse anche di più profondo sì una delle cose diciamo belle è anche il fatto che molto spesso queste grandi coppie diciamo io non ne parlo soltanto dal punto di vista proprio della coppia diciamo uomo donna insomma della relazione sentimentale ma poi una relazione che prende anche percorsi diversi e anche nel caso appunto di patty smith con robert mappeltorpe sono iniziati tutte e due hanno iniziato tutte e due da un insomma insieme nella new york di quegli anni che era una una città straordinariamente ricca e fertile e poi appunto nonostante le strade dei due in qualche modo le strade sentimentali si siano un po' separate però è rimasta sempre questa grande questo grande legame che come dire fa parte anche no del percorso artistico e musicale artistico in senso lato di entrambi i personaggi invece poi ci sono tante storie che si sono diciamo sfasciate per esempio quella fra Tina Eck-Tarner ma anche Amy Winehouse e Reg Travis forse la più famosa perché anche la più recente sì diciamo che sono penso che siano interessanti da leggere al di là poi della portata diciamo nel nel mondo della musica perché comunque si fa riferimento a dei mondi molto particolari per esempio appunto nel caso di Ike Turner e Tina Turner appunto sappiamo quanto appunto lei abbia ha comunque dovuto sopportare anche no violenze di tipo psicologico e di tipo fisico però poi da questo diciamo da questo percorso è venuta fuori una straordinaria forza dopodiché appunto quando lei si è liberata di questo rapporto in qualche modo malato diciamo ha spiccato il volo mentre invece lui ha avuto un tracollo che poi si è sempre fatto più profondo però appunto sono come dire sono spesso personaggi che dentro dentro di sé portavano dei grandi tormenti anche nel caso di Amy Winehouse il suo grande amore appunto è stato Blake a cui ha dedicato tante canzoni insomma che poi sono rimaste veramente indelebili non soltanto nei fan ma anche insomma nella maggior parte delle persone che hanno conosciuto le sue canzoni e queste appunto non probabilmente diciamo questi personaggi sono stati anche fonte di ispirazione spesso però appunto dal punto di vista umano hanno anche dato luogo a grandi sofferenze insomma. Beh viene un po' da pensare che senza queste storie tormentate forse tante belle canzoni non sarebbero state scritte chissà. Senz'altro sì io credo che in realtà molto spesso la grande creatività artistica nasca anche da da tormenti appunto da una visione della vita anche che spesso cozza no con la realtà e quindi sicuramente come dire questi grandi personaggi quindi questi grandi maestri della musica si sono stati un po' sacrificati anche sull'altare dell'arte del rock e in qualche modo si sono fatti carico no di questa di questa anche contraddizione che poi spesso nella vita è sfociata anche in rapporti appunto disastrosi no? Si può pensare ad Amy ma anche a tanti altri. Ci sono due personaggi di cui tu parli e mi hanno colpito molto forse perché li vedo proprio all'antitesi da una parte Michael Jackson e dall'altra Petrucciani questo grandissimo pianista jazz che nonostante la la disabilità che aveva avuto tantissime donne. Come ce li potresti raccontare? Allora sì è vero che in realtà sono molto distanti diciamo il mondo a cui fanno riferimento è molto lontano uno è il pop l'altro è il jazz però hanno in comune anche alcune cose diciamo che Petrucciani in realtà in alcune in un certo senso può essere anche definito un aveva degli stili di vita che possono essere accomunabili anche a molte rock star quindi una vita sregolata nonostante appunto la sua malattia e poi questa grande diciamo avidità proprio di vita che l'ha portato spesso anche appunto a come dire a collezionare rapporti no? A avere gruppi e questo insomma è un diciamo un caso abbastanza eccezionale quello di Petrucciani perché un talento di quelle proporzioni e poi un personaggio diciamo così eccentrico insomma è un po' un unicum per quanto riguarda Michael Jackson ugualmente diciamo una storia completamente diversa però diciamo dalla portata artistica veramente irripetibile insomma lui ha cambiato veramente il corso della musica e lì insomma c'è una storia io poi nel libro in realtà veramente racconto tutti i dettagli anche della vita sentimentale di questi personaggi ed è una storia difficilmente riconducibile in poche parole però insomma sicuramente un percorso umano anche molto triste insomma. Beh lui recentemente è stato anche protagonista di un documentario appunto su dei casi proprio giudiziari che l'hanno visto che lo vedono poi oggi colpevole di fronte insomma alla legge quindi è un veramente una persona controversa perché come dicevi te è stato veramente uno dei fari della musica negli ultimi vent'anni. Sì certo quello senz'altro appunto e poi diciamo dalla più tenera età per cui diciamo che è stato sottoposto anche a una serie di contraddizioni che gli derivavano in prima battuta dalla famiglia quindi da una madre religiosa in maniera molto drastica da un padre invece che ha sempre cercato di spingere sull'acceleratore anche come il padre di Emi e che quindi diciamo che lui fin da ragazzino è stato sottoposto a una serie di visioni insomma non edificanti per un ragazzo. Poi la sua sessualità si è diciamo sviluppata in modo molto particolare e diciamo sappiamo tutti com'è andata a finire sicuramente dopo la sua morte sono stati scoperti insomma diciamo una casa degli orrori insomma per cui in realtà ne è sempre uscito insomma dai processi che ha avuto non è mai venuto fuori in maniera eclatante tutto questo però insomma adesso possiamo dire insomma che si trattava comunque di un pedofilo. Faccio un'ultima domanda c'è una lunghissima prima parte su tutti gli amori di Elvis ma quante donne ha sedotto questo uomo si può dire che era proprio il non lo so il seduttore per eccellenza perché è una carrellata lunghissima io neanche le conoscevo tutte mi ricordavo solo l'ultima forse la penultima la moglie con cui è stato più a lungo. Sì beh anche lì appunto chi legge il libro si rende conto della particolarissima indole di Elvis anche qui si parla di un personaggio dalle proporzioni insomma straordinario dal punto di vista artistico però nello stesso tempo un personaggio molto fragile invece dal punto di vista umano molto insicuro questa insicurezza è sempre stata nascosta anche appunto da una serie di rapporti anche con attrici importanti ragazze molto giovani molto belle per cui ecco è riuscito a differenza per esempio di Jerry Lee Lewis a nascondere questa diciamo questa debolezza nei confronti delle ragazze giovani però ecco diciamo una personalità molto molto complessa e contrastata per cui in realtà nonostante questo grande sfarzo del personaggio pubblico in realtà dentro di sé nascondeva molte insicurezze che gli hanno reso difficile poi confrontarsi con donne soprattutto mature per cui insomma ha sempre cercato di fuggire da quel punto di vista. Invece una grandissima affamata d'amore che anche lei forse non ha mai trovato quello che desiderava è stata Janis Joplin ha sempre sofferto moltissimo lei. Sì di Janis Joplin si parla spesso come diciamo di questa grande bulimia d'amore che la muoveva in effetti penso che il termine sia giusto chi l'ha conosciuta intimamente io ne parlo appunto nel dettaglio ne parla insomma come avvertito in maniera molto pesante questa sua aggressività anche nell'approccio proprio con gli uomini ma anche con le donne però insomma ci tengo a dire che è stato un personaggio cardine anche per la rivoluzione sessuale per la liberazione delle donne appunto è stata una delle prime grandi rock star femmine e quindi in quel mondo che comunque è sempre stato un mondo maschilista diciamo che lei ha avuto dei grandissimi meriti. Prima appunto la prima pagina che si legge prendo il tuo libro è una frase di Pushkin in cui lui dice che tra i piaceri della vita solo all'amore la musica è seconda ma l'amore stesso è musica si può dire che amore e musica non possono stare separati questo si evince diciamo. Sì infatti appunto a me è piaciuto molto scrivere questo libro anche per questo perché comunque come binomio penso sia uno dei più suggestivi no per uno scrittore e quindi parlare di amore e musica e non certo a livello di gossip ma a livello appunto di biografia penso che possa comunque essere un apporto anche per la conoscenza proprio dei musicisti perché comunque per come come la intendo io l'opera artistica non è separata dal suo creatore e quindi insomma conoscere anche i dettagli della nascita di certe canzoni secondo me è molto avvincente. Grazie, grazie mille. Grazie a te.